Intel vs AMD, la guerra continua No, scherzi a parte ragazzi, veramente intanto benvenuti su Provis, io sono Kernan Penso che quest'anno sia un anno che ricorderemo anche fra tantissimo tempo Ci sarà qualcuno che dirà, ehi ti ricordi nel 2017 quando AMD e Intel se la davano di santa ragione Fino all'ultimo core e l'ultimo thread Vabbè andiamo per gradi comunque perché so che molti di voi non sanno di che cavolo io stia parlando Infatti con il video di oggi cercherò di fare un attimino di chiarezza e sottolineo la parola cercherò e non Nel senso che solleverò anche delle perplessità, dei dubbi che ho e cerco anche un confronto ragazzi con voi Per capire meglio insieme quali sono le reali strategie che vogliono intraprendere, che stanno intraprendendo appunto AMD e Intel Ci sono alcune delle cose che menzionerò nel video che sono già una certezza, altre invece come detto ragazzi sono delle ipotesi che faccio io Ripeto, mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensate voi a riguardo Partiamo però dalle certezze al Computex, quindi giusto qualche giorno fa sono stati presentati E' stata presentata la nuova linea di processori Extreme di Intel Quei processori che competono alla piattaforma cosiddetta high-end desktop system Su chipset, sul nuovo chipset X299 e socket anch'esso nuovo LGA 2066 Quelle soluzioni pensate per un ambito professionale o per i gamer mettiamola così più estremi Ecco, state vedendo la lista in questo istante, considerate che gran parte del video verterà proprio su questa Girerà attorno proprio a questa tabella Dove sono rappresentati appunto tutti quanti questi processori I processori in questione E la lista è bella folta ragazzi, sono veramente tanti E sono basati fondamentalmente su due architetture L'architettura Kaby Lake X e l'architettura Sky Lake X I processori proprio che mi hanno incuriosito, che rappresentano secondo me la grande novità di questa nuova linea di processori ragazzi Sono rappresentati proprio dai primi due basati appunto su Kaby Lake X Che sono l'i5 7640X e l'i7 7740X Ragazzi, questi due processori sia come prezzo che come specifiche tecniche Che sono i gemelli degli attuali Kaby Lake su chipset 0-270, 7700K e 7600K I7 rispettivamente i5 Semplicemente non hanno la scheda via integrata e hanno TDP un attimino più alto Poi pensiamo anche che salgano un attimino anche più in frequenza Perché ovviamente la piattaforma in questione ragazzi è ancora più propensa all'overclock Però sono veramente simili anche nel prezzo, costano la stessa cifra Perché è una cosa inedita che Intel non ha mai fatto Sembrerebbe quasi come se voglia rendere più accessibile questa piattaforma Ad una fascia di acquirenti più grande rispetto a quello che era prima Perché comunque sia questi processori qui che competono appunto alla fascia Xtreme Sono per poche persone, sono sempre stati pensati per una stretta cerchia di persone Ripeto che ha esigenze particolari sia dal punto di vista professionale O proprio per i gamer che vogliono la super macchina stratosferica Inizialmente si potrebbe pensare quasi guardando questa tabella Che Intel voglia mettere tutto quanto, ovvero fascia alta e fascia enthusiast su un'unica piattaforma Ma molto probabilmente o quasi certamente così non è come vedremo nel corso del video Passiamo invece ai processori basati su architettura Skylake X Che presentano più di 4 core arrivano ad avere fino a 18 core e 36 thread Ragazzi 36 thread insomma con 18 core sono una roba stratosferica Che per questo tipo di soluzioni non abbiamo mai visto Ragazzi per intenderci il processore di punta su chipset X99 Era il 6950X che vantava 10 core e 20 thread Qua siamo praticamente al doppio E poi vediamo che stanno introdotti un altro brand per questi processori Ovvero gli inove L'inove di punta è il 7980X che come detto vanta 18 core e 36 thread Altra curiosità ragazzi di questi processori è che gli ultimi 4 della lista Cioè i primi 4 partendo dall'alto Non presentano le specifiche tecniche Se non per quanto riguarda il prezzo e la combinata core thread Questo perché molto probabilmente sono stati inseriti all'ultimo istante Per l'ultimo istante non il giorno prima del Computex Ovviamente penso che Intel sapesse di thread reaper delle stregie di AMD Molto prima rispetto a noi Ovviamente però sono stati inseriti mettiamola così Dopo ok inizialmente non dovevano essere presenti su questa tabella Per contrastare appunto AMD con il nuovo thread reaper Che sarà un 16 core 32 thread e vanterà il supporto a ben 64 linee PCI Express Quindi molto probabilmente questi processori qua sono stati inseriti all'ultimo E guarda caso il top di gamma appunto l'inove 7980XE ha due core fisici in più rispetto al thread reaper E molti di voi magari si stanno domandando Beh ma come fa Intel, questa è una piccola curiosità A correggere il tiro così velocemente insomma E porsi quantomeno per quanto riguarda le specifiche tecniche sopra AMD Beh perché esistono già questi processori se vogliamo Infatti c'è la linea Xeon che invece è pensata per i server e quindi per le aziende Che presenta processori appunto che hanno veramente tanti core e tanti thread E di solito le CPU della piattaforma high-end desktop system derivano proprio da questi processori Altra considerazione importante veramente che interessa ai più che c'è da fare guardando la tabella ragazzi Riguarda il prezzo Fondamentalmente andiamo a spendere la metà, quasi la metà ragazzi Rispetto a quello che spendevamo prima per avere un 10 core 20 thread e un 8 core 16 thread L'i7 7820X costa più o meno la metà di quanto costava al lancio il 6900K E l'i9 7900X costa, ripeto, poco più della metà di quanto costava al lancio il 6950X Beh a questo punto la domanda è lecita Ma che ne sarà invece della fascia mainstream, della fascia alta? Quella dove ci sono i processori che servono per i videogiocatori fondamentalmente Dove spendo i 350€, 250€ e compro l'i7, l'i5 Che poi ci sono già un i7 e un i5 nella fascia extreme che costano questa cifra Allora cosa sta succedendo? Beh fondamentalmente la risposta sta in due parole se volete Coffee Lake I processori di ottava generazione Sempre basati su architettura a 14 nanometri Mettiamola così un po' aggiornata e rivista ma sempre quello è Che sarebbero dovuti uscire i primi mesi del 2018 Invece sono stati anticipati, guarda un po' Sempre grazie al successo di AMD con Ryzen A quest'estate Molto probabilmente verranno lanciati ad agosto in occasione del Gamescom Queste ragazzi veramente sono news che trovate sul web ma non è niente di certo Però appunto in tanti stanno scrivendo che il Gamescom potrebbe essere l'occasione buona Per il lancio di questa ottava generazione di processori Che saranno basati su chipset Z370 Quindi un altro chipset andremo a cestinare fondamentalmente Z270 E indovinate un po' Questi processori presenteranno a quanto pare un i5, un i7 Che saranno 6 core, 12 thread Per quanto riguarda l'i7 Quindi che supporterà come sempre per trading E 6 core, 6 thread Per quanto riguarda invece l'i5 Quindi fondamentalmente nella fascia cosiddetta Ripeto più mainstream La fascia alta Ragazzi avremo il top di gamma Che sarà un 6 core Quindi quasi stessa architettura rispetto agli attuali Kaby Lake Semplicemente con più core E io penso che il prezzo sia lo stesso anche degli attuali i7 e i5 Ma allora che senso ha avere i processori 4 core, 8 thread e 4 core I7 e i5 ragazzi sulla piattaforma extreme? Beh fondamentalmente la spiegazione che mi sono dato io È che i top di gamma di Coffee Lake Che ipotizziamo saranno l'i7 8700k E l'i5 8600k Qui veramente ragazzi sto sparando dei numeri Essendo degli esa core a quanto scrivono in tanti ragazzi Avranno una frequenza più bassa Quindi sulla piattaforma extreme ci saranno appunto questi 5 i7 Basati su architettura Kaby Lake X Che avranno sì meno core Ma potranno raggiungere frequenze estremamente elevate Più di quanto già E sono altissime ragazzi Vengono raggiunte degli attuali 7700k e 7600k Kaby Lake Ragazzi io lo so che questo video è stato un po' complicato Ho ripetuto più volte gli stessi nomi Non so magari qualcuno veramente non ci ha capito niente Ha lasciato un dislike dopo 10 secondi Però questo è un anno veramente interessante La conclusione di tutto questo discorso è che ragazzi Oggi spendendo quello che prima spendevo per comprare un 4 core 8 thread Sarò in grado di acquistare da qui a breve molto probabilmente un 6 core 12 thread Anche per quanto riguarda intel E tutto questo grazie a Ryzen Oltretutto quando c'era thread river secondo me I prezzi che avete visto in tabella Ragazzi il top di gamma in 9 di intel costa 2000 dollari Si abbasseranno secondo me ancora di più Quindi ci sarà una lotta al prezzo Veramente secondo me è aggurrita Comunque ripeto grazie ad AMD Oggi potremmo acquistare un processore veramente prestante Con più core più thread rispetto a quello che avremmo acquistato qualche mese fa Da carne è tutto ci becchiamo alla prossima Bye